Terza edizione di Ecosistemi Digitali alla stazione Leopolda di Firenze nell'ambito di BTO, la Borsa del Turismo Online. Un percorso, quello di Ecosistemi Digitali, avviato nel 2016 e sviluppato dalla Regione Toscana, con Toscana Promozione ed Enit, su impulso dei ministeri MIPA, Femmise, con il coinvolgimento delle regioni italiane. L'obiettivo principale è quello di individuare le strategie fondamentali per sostenere il turismo digitale e condividere i progetti per sostenere l'innovazione nel turismo per la destinazione Italia. L'edizione odierna dell'incontro è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio di tre anni di lavoro. Le destinazioni pubbliche, le varie DMO pubbliche, si iniziano a rendere conto con una grande consapevolezza della necessità di organizzarsi anche da un punto di vista digitale in maniera strutturata. Abbiamo visto a BTO come il digitale è ormai pervasivo nell'ambito del settore del turismo e come rappresenta il presente, non è tanto il futuro ma è già il presente. A questo però bisogna affiancare un'organizzazione territoriale di destinazioni turistiche che deve essere altrettanto strutturata e deve rispondere all'idea di organizzazione. La consapevolezza è che qui si devono costruire politiche attive, che il ruolo degli enti locali non è quello di essere semplicemente degli archivisti, ma essere dei promotori, dei partner veri della pubblica impresa e assumere quella responsabilità nella gestione delle politiche complessive. Gestione dei flussi, ma anche programmazione, gestione delle risorse, sostegno alle imprese, ma anche valutazione dell'impatto dei flussi turistici e se possibile anche loro orientamento. E quindi quello che devo dire la Toscana credo stia interpretando appieno, la capacità di comprendere in anticipo le trasformazioni che possono essere indotte, per cogliere in queste le opportunità e per eliminare o mitigare se possibile le criticità. La platea di ecosistemi digitale ha evidenziato anche gli elementi chiave per promuovere le nostre destinazioni a livello internazionale, tra questi c'è la narrazione dei territori e delle peculiarità che possono rappresentare anche appil turistico. La narrazione, il tema dello storytelling, il tema della gamification, il tema anche di quello che non ci aspetteremmo, come il passaggio rapido dal cineturismo al videomapping o ad esempio che oggi si può parlare per il destination management di valutare anche aspetti come l'Instagrammability, è quasi una parola impronunciabile, però quanto una destinazione può essere fotogenica in chiave di Instagram. Quindi mi sembrano tutti degli spunti molto molto interessanti. È chiaro che ecosistemi digitale nasce all'interno di un quadro, di un accordo fra Stato-Regioni, Conferenza Stato-Regioni, MISE, MIBACT, Regione Toscana, quindi è evidente che dobbiamo poi andare ad individuare anche delle linee di azioni concrete, quindi delle vere e proprie appunto linee che possano diventare degli output per le destinazioni in termini proprio di policy specifiche per migliorare anche la governance. All'interno di BTO c'è stato poi spazio per i riconoscimenti, tra questi quello che i viaggiatori di TripAdvisor hanno assegnato alla Toscana ancora una volta meta amatissima. Secondo lo studio del sito di viaggio è emerso infatti che le recensioni dei viaggiatori stranieri sugli alloggi vedono la Toscana sopra la media nazionale. La provincia di Arezzo è quella che risulta la più apprezzata dalla regione per l'offerta ricettiva. L'ospitalità non è ancora una volta un elemento dato, ma è un elemento costruito. L'ospitalità è professionalità, capacità di accogliere, capacità di interagire, relazionarsi con l'ospite, capacità di essere in grado di dare il meglio nel momento in cui si consegnano le chiavi di una camera d'albergo o di un appartamento. Quando abbiamo approfondito il quadro disciplinare e abbiamo anche forzato nuova disciplina nell'inquadramento della locazione turistica breve per gli alloggi, eravamo consapevoli che ormai al di là dell'offerta alberghiera stava crescendo e addirittura forse in certe situazioni superando l'offerta negli appartamenti. È un problema se non gestito, è un'opportunità, è una straordinaria opportunità se rivolta ai territori che possono raccontare nuove storie, che possono trovare spazi di nuova economia. E allora abbiamo cercato di far comprendere a chi entrava in questo mondo che non rappresentava un piccolo interesse privato, legittimo, che andava tutelato, ma rappresentava tra gli altri un soggetto che in quel momento decideva di giocare l'immagine della nostra regione. Chi consegna le chiavi di un appartamento anche in un piccolo borgo gioca all'immagine del Toscano e quindi deve farlo con quell'orgoglio e con quella consapevolezza che alla fine, vedo, viene premiata.